300 abbracci in rappresentanza delle migliaia di Veneti che avrebbero voluto celebrare, come si deve, i campioni peralimpici dopo le imprese a Rio de Janeiro. Prestazioni e medaglie esaltanti che hanno davvero emozionato. Beh, beh, ma non solo, ma anche Alex che abita, nonostante sia, come dire, bolognese, ma abita qui vicino Padova, Alvise che è un monumento, un monumento, Bettella, insomma, mi dimentico alcuno, ah, e poi la rossa volante, Francesca, insomma, voglio dire, quindi da questo punto di vista non potevo non essere qua. 11 atleti per 11 medaglie, sono loro i primi a rendersene conto con incredulità, anche se alle vittorie c'è chi dovrebbe essere abituato. Non so se siano le più belle, sono le più recenti, dunque le più fresche, dove le emozioni sono ancora belle, vive e indescrivibili. La grande festa della polisportiva Terraglio di Mestre, che con i suoi impianti è un po' la culla dello sport paralimpico per il veneziano, tanti appassionati ma anche autorità come il presidente Veneto Luca Zaia, e in prima fila applaudirebbe Bebe Vio, Francesca Bettella, Michele Ferrarini, Andrea Borgato, Michele Prunelli, Marta Zanetti, Nadia Fario e Xenia Francesca Palazzo. Una festa che poi si allarga un po' perché oggi presenteremo anche un libro dove raccogliamo in questo libro tutti gli atleti paralimpici che sono andati alle Paralimpiadi, con medaglia o senza medaglia, proprio perché non vogliamo disperdere il patrimonio e chi ha promosso lo sport paralimpico.